Musica Allora eccoci qua, è terminata PNL in Sanità, non era la prima volta che seguivi i nostri corsi, come è andata la differenza e quello che hai trovato all'interno del corso? Come è andata? È un tuffo in un oceano, bello, non è scontato, l'ho fatto l'altra volta, farò anche il practitioner, anche per le espressioni facciate, perché è un mondo per conoscere se stessi e a quel punto avrai la chiave anche forse per conoscere gli altri. Iniziare da noi e poi andare verso l'esterno, invece di fare quello che accade tante volte è l'opposto. Io ho tanto bisogno di entrare in me e quindi vi ringrazio tanto, soprattutto vi ringrazio perché fate sentire ognuno in grado di poterlo fare e questo non è poco, state solo su un livello di comunicazione fantastico. Infatti noi facciamo con poca gente, con poche persone, cioè ecco 30, 40, 50 persone perché oltre quello, poi nel practitioner sono ancora di meno perché si lavora tanto. Dentro, dietro, non fate vedere che sapete tanto, si sente che dietro di voi c'è un mondo di conoscenza, però ci fate sentire al nostro agio, la prossima volta ballerò pure forse. Ma vedrai che ci sarà tanto da ballare, l'avete visto nei video. Grazie, auguri e buon Natale, grazie a te, un braccio. Ci qua ragazzi, terminato Pinali in Sanità Roma, non edizione, raccontateci proprio la vostra esperienza, come è andata? Grazie a te. Nella nostra professione, ci aiutano, ci aiutano a lavorare meglio, a farci raggiungere i risultati in modo più... Hai trovato uno specifico e adesso tu ce lo dirai in globale? In globale? Ragazzi è fighissimo, se lo fate ne trovate giovamenti e la cosa più bella è che ti confronti con le persone che fanno vari mestieri e capisci tante cose che magari se stai nel tuo mondo, nella tua professione, non capisci. Più globale di così, grazie ragazzi! Allora Sandra, eccoci qui, è terminato PNL in Sanità, non edizione Roma, come è andata? Raccontaci la tua esperienza. E' andata benissimo, in realtà è stato il secondo incontro con la PNL, ho seguito un'altra, altre due giornate, l'anno scorso anno e mentre nel primo approccio, lo stato d'animo iniziale era un po' di diffidenza, un po' di paura, questa volta sono già arrivata, molto più libera, sciolta e quindi ho potuto apprezzarne ancora di più le caratteristiche positive, quindi sono contenta. Quindi addirittura sei venuta a rifartela perché ti è piaciuto? Esatto. Beh che dire ragazzi, grazie, grazie, grazie. Grazie. Grazie.